Il Club degli Audiolettori presenta I tre moschettieri di Alessandro Dumas Letto da Sheila Rosati I cittadini s'armavano sempre per difendersi dai ladri, dai lupi, dai servi, spesso dai signori e dagli ugonotti, qualche volta dal re, mai però dal cardinale o dagli spagnoli. Da questa abitudine ormai inveterata risultò che il già detto primo lunedì del mese d'aprile del 1625, gli abitanti di Magne, sentendo rumore e non vedendo né la bandiera gialla e rossa né la livrea del Duca di Richailleux, si precipitarono verso l'osteria del Franck Manier, dalla quale proveniva il chiasso, e non appena arrivati poterono appurarne la causa. Un giovane, tracciamo con un tratto di penne al suo ritratto. Figuratevi Don Quixote a 18 anni, ma un Don Quixote senza corazza e senza cosciali, vestito di una giubba di panno, il cui blu originario si era trasformato in una sfumatura indescrivibile di feccia di vino ed azzurro pallido. Viso ovale e bruno dagli zigomi salienti, segno in dubbio di astuzia. Muscoli mascellari enormemente sviluppati, indizio infallibile dal quale si riconosce il guascone, anche senza berretto, e il nostro giovanotto ne portava uno ornato di una specie di piuma. Occhio grande e intelligente, naso adunco ma finemente disegnato, troppo grosso per un adolescente e troppo piccolo per un uomo maturo. Un occhio poco sperimentato avrebbe potuto scambiare il nostro giovane per il figlio di un fittavolo. Senza la lunga spada che, appesa a una bandoliera di cuoio, batteva i polpacci del suo proprietario, allorché questi era a piedi, e il pelo irto della sua cavalcatura, allorché era a cavallo. Perché il nostro amico aveva un cavallo, e questo cavallo era anzi così notevole che fu notato. Era un cavalluccio del Bearn, dell'età di 12 o 14 anni, col mantello giallo, senza crini nella coda, ma non senza giarda nelle gambe, e che pur camminando con la testa più bassa delle ginocchia, il che rendeva inutile l'uso della martingala, faceva ancora le sue otto leghe al giorno.